Ci troviamo a Marina di Leporano, nella piazzetta Santo Mai. Stiamo vivendo purtroppo l'emergenza del coronavirus. Come sapete il decreto consente solo ad alcune attività l'esercizio delle stesse, tra cui ovviamente la vendita di generi alimentari. E qui si è fortunati perché qui c'è un minimarket, un punto di vendita di generi alimentari, ma diventa anche una forma di ritrovo, di incontro. Chiariamo che questi servizi, queste interviste che stiamo facendo, non hanno assolutamente una valenza, un significato pubblicitario. Vogliamo solo così far capire che la vita comunque va avanti e che certe attività commerciali comunque consentono un minimo di scambio, di socializzazione. Intanto ci fa piacere vedere che la gente è educata, ha compreso l'emergenza del coronavirus e quindi in fila mantiene le distanze prima di poter entrare. Ovviamente c'è un turnover, un riciclo per così dire, tra gente che esce e gente che entra perché ovviamente c'è un numero massimo di persone, un numero consentito di persone che possono stare all'interno della struttura. E dicevo, in questi momenti, in questa situazione del coronavirus, si cerca così di far finta che sia tutto come una volta. Almeno dateci e diamoci questa illusione. Poi c'è ormai lo slogan, tutto andrà bene, ma così davanti a quello che offre un'attività commerciale, le cose buone da mangiare e da bere, ci si ristora un po' e vogliamo vivere appunto questo clima. Ovviamente noi rispettiamo anche la privacy di chi non vuole essere ripreso e vedete qui la vita va avanti. Ma mi fa piacere, lo ripeto ancora una volta, che ci sia il rispetto proprio davvero spartano, tedesco, ed è giusto che sia così, delle distanze di sicurezza. Ecco, stiamo facendo un po' una zoomata e vedete, si cerca comunque di far sì che... Sembra quasi che la vita sia come una volta, che non sia successo niente. Vedete qui ovviamente il reparto Salumi, il reparto appunto della panetteria e quindi così. Ripeto, non vogliamo fare assolutamente una pubblicità a nessuno, ma vogliamo solo invitare così a prendere spunto da queste attività, perché si va avanti. Si va avanti con il rispetto sacrosanto appunto dei dettami stabiliti dal decreto. Vediamo qui la nostra amica La Cassa e voglio rubare una parola al titolare. Mi mantengo a debita distanza. Beh, come vanno le cose? Buonasera, diciamo, dato il periodo che non è confortante, non è piacevole per nessuno, ritengo che stiamo fornendo in maniera ottimale un servizio alla clientela, aumentando anche il numero della forza lavoro, spiacevole in questo periodo, però stiamo cercando di tenere il negozio sempre pieno di merce, e rifornirlo e siamo aperti 11 ore al giorno, dal lunedì al sabato. Vorrei così soffermarmi sul rapporto che c'è con la clientela. Lei certamente ha una clientela affezionata, fidelizzata, ma è importante tutto questo perché ovviamente si dà un messaggio di speranza, di vita, l'anziano che viene. Si scambiano due parole, altrimenti stare chiusi in casa è brutto. Bisogna stare chiusi in casa, però il momento in cui si va a fare la spesa, quel quarto d'ora, ci dà un sospiro di sollievo. È un momento di normalità che ci ricorda che anche in altri periodi potremo ritornare ad avere una vita serena e tranquilla. Noi solo a chi ha necessità in questo momento possiamo fare anche il servizio di consegna a domicilio agli anziani, per gli altri no, perché siamo costretti a tenere il personale impegnato a sistemare la merce che ormai arriva a tutte le ore. Intanto, come detto prima nella carrellata, nel giro che ho fatto, un plauso perché davvero si stanno rispettando le distanze di sicurezza e poi io penso che un ringraziamento forte vada anche ai dipendenti che in un momento difficile si stanno sacrificando e stanno sposando non solo una scelta ovviamente dell'azienda da lei diretta, ma rendono un servizio sociale alla collettività. Io approfitto dell'occasione per ringraziare i miei cinque dipendenti che davanti a questa situazione di stress non si tirano indietro al lavoro. Capirei se qualcuno mi dicesse che non se la sente di venire a lavorare, però tutto questo non è successo, anzi, fanno anche orari straordinari durante la settimana che avremmo voluto evitare dato il contesto sociale in cui stanno avvenendo. Bene, noi non ci conoscevamo. Siamo venuti qui, lo dico, forse mi avrà conosciuto dal video, però siamo venuti qui perché abbiamo realizzato una intervista con Franco Rizzo, coordinatore provinciale dell'USB e ho trovato un po' di amici, c'è la mare, altri, ma devo dire che qui c'è un clima familiare, non lo conoscevo, ma quando avrò occasione e anche in tempi migliori quando ci si potrà spostare liberamente sarà un'occasione per vederci e per abbracciarci e come recita lo slogan tutto andrà bene. Grazie e buonasera, arrivederci a tutti.